Il clima di amore e fratellanza all'interno della casa del grande fratello inizia a vacillare. Nelle scorse ore, durante un break pubblicitario della puntata in onda il 23 settembre su Canale 5, è andata in scena una lite accesa tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato. Lite di cui, una volta tornati in studio, Alfonso Signorini ha prontamente chiesto conto ai protagonisti. Ad accendere gli animi dei geffini sono state le nomination, in particolare quelle palesi, che non godono della protezione del confessionale, ma vengono manifestate davanti a tutti i concorrenti. Lorenzo, l'uomo più libero d'Italia, viste le sue abitudini intime, ha fatto il nome di Luca, che lo ha accusato di essere falso e manipolatore. Un battibecco che si pensava esaurito nel giro di poche battute, invece pochi minuti dopo, mentre i telespettatori venivano intrattenuti dalla pubblicità, nella casa del GF scoppiava il pandemonio. Per fortuna il conduttore, una volta tornato in onda, ha deciso di mostrare le immagini della lite consentendoci così di ficcare il naso nella diatriba tra i due. Ma che cosa è successo? Lorenzo voleva avere un chiarimento con Luca, il quale però lo ha respinto evitando il confronto. Però non essere cattivo, Luca! Sono state le parole del giovane, ma l'attore è esploso. Ma cosa vuoi? Ma ti levi dai coglioni! Lasciami stare cinque minuti! Non puoi venirmi sempre davanti! Non ti posso perdonare quando cazzo vuoi te! A questo punto, anche spolverato, è andato su tutte le furie, e il suo volto ha assunto un'espressione alquanto torva. Lu, non mi mancare di rispetto, però, perché io sono carino e gentile. Non mi mancare di rispetto. Lu, eh? Non mi dire levati dai coglioni, capito? Pulisciti la bocca, ok? Diversi altri concorrenti sono intervenuti invitando Lorenzo a respirare e calmarsi, prima che la situazione potesse degenerare oltre. Avete perso le staffe, è stato il commento di Signorini, che ha bacchettato gli inquilini. Sarò Don Alfonso, però le parolacce cercate di evitarle, perché non è mai una bella cosa quando si entra in casa degli altri. Il conduttore ha cercato di indagare le motivazioni dietro questo scontro, e ora non resta che capire se tra i due arriverà un chiarimento, o se i rapporti continueranno a rimanere tesi come una corda di violino. E tu cosa ne pensi della notizia? Lascia un like e un commento. Grazie.